Ciao a tutti ragazzi, io sono NoCal12 e in questo video continueremo la mia serie di FNAF con FNAF 3 iniziamo come ogni altro gioco di FNAF dobbiamo arrivare alle 6 del mattino mutiamo la chiamata perchè sappiamo ciò che dobbiamo fare e in questo FNAF non ci saranno le porte perchè non ci sono? perchè se vedete nella mappa in basso a sinistra c'è scritto play audio dove lo metteremo attireremo il mostro, che in questo caso è Springtrap piccola curiosità, Springtrap in realtà è una specie di umano psicopatico che si è messo questo consume però dopo è rimasto bloccato dentro però la prima notte dovrebbe essere abbastanza facile tra l'altro tra l'altro qua ragazzi c'è possiamo vedere anche i condotti che sinceramente non so cosa servono perchè in teoria c'è solo quel mostro ma arriva da dei corridoi quindi magari dopo si aggiungeranno altri mostri spero di no adesso ragazzi adesso ragazzi sto cambiando molte volte le telecamere però non sto vedendo nessun movimento niente e nessuno quindi magari speriamo che la prima notte non ci sia assolutamente nessuno all'interno di questa attrazione horror perchè si non è più una pizzeria ma questo capitolo è un'attrazione horror perfetto siamo già alle 5 del mattino questa notte sembra abbastanza facile però per non saperne leggere e scrivere io continuerei a mettere degli audio così lo attiriamo magari se c'è ah e qua non vi ho detto che niente non ve l'ha fatto spiegare il gioco abbiamo vinto la prima notte che bello 6 del mattino ma la seconda notte sarà molto più difficile cosa sta so raga oddio oddio ma eh ok posso andare sia avanti che indietro cos'è questa roga ma è mangle raga è mangle ci stiamo costruendo che bello andiamo avanti ma no fermi ma non è che se ci costruiamo dopo eh mangle spunta dai condotti speriamo di no beh uscita beh andiamo via da questo posto ok va bene va bene ha fatto molta paura devo dire mutiamo la chiamata ah vi stavo dicendo qua tra l'altro ci saranno anche degli errori e noi dovremo cliccare per sistemarli e questa cosa ci darà anche parecchio fastidio adesso vediamo se lo riusciamo a vedere da qualche parte però attiriamolo perché qua dovrebbe esserci per forza fermi no non è vero ma dov'è che è perché non c'è il mostro non è in casa lo dice ma io è paurissimo non è che può già guardarmi perché questo se ti viene qua alla porta a guardarti ha un po' di tempo dopo ti viene ad uccidere quindi oh eccolo eccolo vedete raga è tipo un coniglio strano noi attiriamolo dovrebbe arrivare qui se i miei calcoli sono giusti vediamo che brutto rumore che cosa sta succedendo ha paurissimo raga non è che non sta avvenendo ok qui non c'è nessuno stiamo calmi aiuto cos'è 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 oddio ma è mongol è mongol è phantom mongol raga forse c'è jumpscare non lo so raga ha paura no ok vedete qua c'è stato un errore allora non mi ha fatto jumpscare pensavo di sì però boh non lo so è da tanto che non mettiamo l'audio no porco cane mi ha fatto prendere un infarto visto e non abbiamo messo degli audio per troppo tempo e quindi mi è venuta ad uccidere molto bene ma voi pensate che io la finisca qui assolutamente no ci riproviamo ma no sono un pollo ho messo sboglio di nuovo la notte 1 sono un pollo e niente ci rivediamo quando l'ho completata perfetto ragazzi rieccoci nella notte 2 stavolta però controlliamo anche nelle ventole perché non vorrei che mongol arrivasse proprio da lì se come la mia ipotesi c'è davvero per adesso non ci stanno essendo neanche errori di comunicazione c'è una musica brutta e infatti ho parlato troppo presto errore dell'audio però lo ripariamo abbastanza facilmente e niente continuiamo a controllare qua secondo me ragazzi però non lo dobbiamo attirare troppo vicino porco di nuovo un angolo eeeh questa qua fa un botto di rumore no 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 secondo me prima è lei che attira il posto mentre ecco eccola qua di nuovo sono andato dai 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 luce eeeh dobbiamo buttarlo via ma di nuovo ahhh jumpscare brutto ventilazione errore di ventilazione oddio eeeh dai 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 fallo dai veloce ok bene 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 attiriamolo via guardiamo anche i condotti ma non c'è nulla eeeh perfetto lui non so dove sia però speriamo non sia troppo vicino al mio ufficio e per adesso sto tranquillo dai si però questo tempo non sta più passando sono le due da 50 minuti dai dai perfetto ragazzi sto riparando l'audio e sono le 3 del mattino dobbiamo resistere altre 3 ore potremmo farcela perchè non sto andando troppo male eeeh sprint trap non si fa vedere vi giuro non so dove sia mi potrebbe anche star osservando io non lo so eeeh continuiamo a fargli fare il giro intanto eeeh dai che secondo me che ce la possiamo fare porco brutto rumore ok ripariamo l'audio 4 del mattino devono essere porco no raga l'avete visto l'avete visto l'avete visto era di brutto là dietro l'avete visto tutti porco vai via no 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 ti prego dai ti prego ti prego vai via ti prego io non sono qui dai no non posso perdere adesso non ti guardo non ti guardo dai vai via dai sono le 4 del mattino sono infame se mi uccidi dai eeeh vabbè addirittura eeeh niente ma dai ma come faccio a vincere impossibile uffa e niente ragazzi il video finisce qui perchè davvero non so più come continuare se volete che continuo FNAF 3 lasciate un bel pollicione in su e da nocal 12 è tutto ciao raga